Triste Villas, buongiorno. Oggi siamo nel complesso Verde Mare, all'ingresso di Via Picciola. Siamo dietro a Piazza Calalberto, un complesso di recente edificazione, classe energetica A. Siamo con finiture di alto livello, riscaldamento a pavimento, aria condizionata, tre camere, due bagni, salotto, terrazzo. Siamo a due passi dal centro, alle spalle delle rive. Siamo dietro a Piazza Calalberto, zona residenziale molto buona, zona tranquilla, ma veramente piena di servizia. Disponibilità di parcheggi e box auto direttamente all'interno del complesso. Abbiamo invece già in dotazione una cantina come pertinenza dell'immobile. Cosa aggiungere? Verde Mare, Trieste, giornata di sole, direi perfetto, tutto facile, semplice. L'appartamento perfetto per una famiglia. Trieste Villas, seguiteci YouTube, Instagram, Facebook. Venite a trovarci in Via Torino per qualsiasi consulenza immobiliare e non solo. Saluti! Ciao, grazie, vedete!